Una delle sfide di questa 24esima giornata di campionato sarà Bologna-Inter e oggi andiamo appunto a vedere gli ultimi precedenti tra le due squadre, giocati chiaramente in terra emiliana. Il Bologna è ridice dai tre punti guadagnati a Marassi con la Sampdoria, con una prova autorevole. Particolarmente in forma è Orsolini, l'ultimo match winner. Tiago Motta sostiene che neanche lui sa quanto sia forte. Con il 3-1 sull'Udinese, l'Inter ha un margine di 5 punti di vantaggio sulla quinta in classifica. L'ultimo incontro è tornato al gol Lukaku, sebbene su rigore. Migliore in campo è stato invece Mkhitaryan. 75 il totale delle gare, 30 vittorie del Bologna, 14 pareggi, 31 vittorie dell'Inter. L'ultima vittoria di padrone di casa è della scorsa stagione. I rosso-blu si impongono per 2-1. Apre le marcature Perisic, ma poi rispondono Ornautovic e Sansone. La sconfitta nerazzurra, determinata da un errore di piedi di Radu, è risultata decisiva per il mancato scudetto. Del 2017-2018 l'ultimo pareggio. Finisce 1-1. A Verdi risponde Icardi su rigore. Nel primo tempo Verdi effettua 7 tiri e al sesto tentativo trova un gol molto bello. L'ultima vittoria dell'Inter è della stagione 20-21. Vittoria di misura 1-0 e in rete va Lukaku. Con la rete di Big Rom l'Inter allunga in classifica sul Milan e si rende ancora più imprendibile. Memorabile la stagione 71-72. Un netto 0-3. Con reti di facchetti e una doppietta di buon insegna. I campioni in carica dell'Inter danno una prova di forza con 3 gol in 17 minuti. Scarica l'app gratuita di Calcio News 24, iscriviti al nostro canale YouTube e se il video ti è piaciuto lascia il tuo like.